Signori, oggi siamo tornati con Dado e Scad Ciao 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 Per giocare a biliardo con ostacoli Per essere chiari, gli ostacoli non sono Dado e Scad Che ostacolano la produzione di questo video Come compagni potrebbero essere dei grandi ostacoli Potrebbero essere ostacolanti Io sì, io sì Io e Scad abbiamo fatto spesa al lobby di materiale idraulico e roba di genere Eh, di idraulica quella roba lì, anche roba da giardino 80 euro Vediamo di rientrarci Provate a rifresciare la pagina due o tre volte Esatto, non è il dubbio Dopo ogni round si potrà inserire un ostacolo sul tavolo da biliardo Specifichiamo la parola round Il completo giro di entrambi le coppie Mi ha emozionato, posso dire, mi sono bagnato E non ho finito la scuola, è incredibile Come al solito giocheremo a palla 8, palla 15 Modalità nella quale la palla 8 e la palla 15 vanno nelle buche laterali La 1 va per ultima, se va giù prima la squadra perde Tempo di fare le squadre Siccome io con Dato non ci voglio più stare, scelgo Scud Guarda che sto giro non è alcolico, non volevo dirtelo Presumiamo che tu sia una merda anche senza alcol a giocare Kan per scegliere squadre, noi iniziamo Vai, vai, Dato Prego, prego, prego Il canale è tuo, io non voglio spaccare, non voglio avere problemi Puntiamo giusto a 1 e ricominciamo il video Oh, finalmente Tranquillo che adesso li sistemiamo Prego Ma per cancora lui Ah ma come Ah lui non sa le regole Non sa le regole Ma hai mai giocato al biliardo Cazzo Ah Cazzo Adesso ti stai un po' pentendo della scelta Eh un po' ci sto pensando Sto sommando il mio ex non era così male Ecco Niente quindi Ma perfetto Un po' smistato Guarda c'è una 14 proprio Qual è la 14? Guarda è scuro Ah ho gli occhiali per un motivo in questo momento Ho preso la talpa No Ho preso la talpa Perché hai gli occhiali? Stai male con gli occhiali? Non le posso dare a contatto Ok Comunque vedo del feeling fra loro due Non le posso dare a contatto Se lui è nervoso come una bestia Fisce il video le stecche in testa Che mette già le mani avanti Che qualcuno gli chiederà Perché c'hai gli occhiali Oh ma è due mesi che mi romano i coglioni Nei commenti Vai tira Tocca a te Scala Che cazzo vuoi? Tocca a me La verde Qui Oddio Ok Non picchiare il camera Grande Scala Fallo A noi le mezze A loro le piene Vabbè ho fatto pari Ho fatto pari Ho pareggiato Ho pareggiato C'è la parte a non fare un fallo Fallo No ho preso la 1 Ah giusto Scemo di merda Tocca molto tempo La faccia lì Quella è una mezza di merda Ragazzi Ragazzi Perché loro hanno due stecche Che vuoi una stecca? Sì Vuoi una stecca? Sì Davi 50 euro Vuoi una stecca? No Tempo degli ostacoli Scegliamo noi scad Quello là esatto Quello lì Quella meravigliosa routine Da 19 euro e 90 No no niente Ricambi carriole per bambini Dove la mettiamo? Eh mettila dove vuoi Allora aspetta Fammi esaminare In mezzo Tatticamente Voi cosa avete? In mezzo? Qua 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 Tendiamo tutto più divertente Guarda l'avessi messo Un centimetro più là Era fastidioso Ha toccato Palla nostra State zitti Vabbè Anzi solo perché Possiede il 50% del canale Solo per quello Ma quella era la 1 Stavo facendo danni Sì Vada Scott Guarda 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 Sbomba qui Sbomba Bravo Scott Guarda c'è il trenino adesso Meraviglioso Il trenino Mamma mia Chirurgico Sì ma non dovevi mandare Non dovevi mandare la 15 in culo Ricordami un po' Noi abbiamo le piene Sì Beh è andato comunque sul pezzo Circa ancora tutte Allora Puoi tenerla piena dietro la stecca Ma io la tengo così Guarda Come una signorina Oh ma è il secondo fan di giornata Dobbiamo insegnargli a colpire da sotto Perché bisogna riprenderlo da sotto Per fargli fare il giro dietro Eh sì Vabbè ma questi trick Lui guarda i video su Instagram Del biliardo Cosa fa il piano di biliardo Lui se li guarda tutti Cosa fa Spoon quando 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 dovrebbe fare qualsiasi altra cosa Esatto Biliardo alle 4 di mattina Fermi Tocca a me mettere un ostacolo Beh quello cos'era scusa Te lo sei messo tu Dobbiamo interaggirciarti noi Non bastava Far parte di questo canale Per interaggirciarmi no? Scusate che rido Quel B Quel cono lì No non l'ho pensato il personale Eh no Assolutamente Quanti c'è un ostacolo Silenzio Silenzio Guarda che va Guardalo lì Non ce la fa Pronto Siamo Facciamo Dai Limitiamogli La 8 Sì vabbè Certo La 8 è nostra Eh La 8 è loro Eh non si può Non si può eh Non si può eh Ma io non sono un mago in questo gioco Ma stai sbagliando qualcosa Non potete essere talmente pochi Che non so più quali siano le mie Limitiamola a 15 Non rompere i coglioni Mettere lì in mezzo al cazzo Delimito entrambe Guarda come l'ha spostata Bello in mezzo al cazzo Sfitti Andrei Ma che gliel'hai detto? Ma lo so Non capivo Io non lo sapevo neanche io Bello Puoi spondare il birino se vuoi Spigolino Fai uno scavetto Oddio Vabbè ci ho provato Ti dirò Hai mosso anche la 15 Cominciamo a fare un po' di skill 8 in buca Guarda la 2 Vabbè ci ho provato Allora Quindi è fallo? Sì Sì è fallo Bello 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 Sta proprio di merda Sta proprio di sterco Posso ostacolare? Va bene Va bene Oh Chi deve tirare? Tutti i suoi Ridi ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi Gnocchi Sono gli up and down Upside down Con questi occhiali si vede per terra Bec no Tira su Bec Prego prego Guarda E questo è un trip di acidi È bellissimo Porca Spera Spera Vai piano Perché ho Fermi tutti Devi andare qui in su Dado In su su Non la stecca Allora Ok Ci so Ci arrivo Vai vai Abassa un po' la mira Perché stai mirando in troppo in alto Aspetta un secondo La butto a destra La butto a destra Uno Due Guarda l'ha preso L'ha preso Sì Sì Tu non hai idea del torcicolo che mi sta venendo Ma io gli farei fare tutto il video così no? Eh certo Quindi sbocca in giro Il signorino fa da dietro E gliela mette dentro No 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 Oh Non ci credo Ma cos'era? Stacchina me por favor Scada Un po' per uno Non fa male a nessuno Oh E adesso Guarda che posizione No È impossibile Troppo avanti Mi devo spezzare il collo Provo la sponda fantasiosa Con il rotino Fagli fare il salto con il rotino Allora Il pavimento lo paghi tu al massimo Tranquillo 40.000 euro Sembra quella La cifra Posso avere un po' di concentrazione? Assolutamente no Bello Ha rotto il gioco Va benissimo Andrea Ho provato gli occhiali? No Ma come no? Che antifesta Possiamo levare il cono? Attenzione Ritorno in gioco a 15 Routine numero 2 Per il montacarichi Vedi 4,99 Prevendo casini Vabbè Ho fatto un più dato Aspetta 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 Va bene Dai tira a scatto È stato negativa questa cosa Ci abbiamo un tocco leggero Negativa? Ok vabbè Mal destro Sono una pippa immonda Ne sono accorto Tranquillo Tranquillo che ho visto con i miei occhi Non cominci a 12 così? Sicuramente E invece sì L'ho visto io da 12 metri Lui era di fronte Fallo Allora fammi esaminare un attimo Facciamo un po' di analytics La blu la fai rimbalzare qua E la mandi in quella buca Allora l'umidità dell'aria Cos'è? 55 58 Sì Più o meno Di che siamo in un bagno turco? Sì Cos'hai preso per primo? Che cazzo hai preso per primo? È fallo per il bar Va bene Va bene così Da dovetti quella sei Guarderemo dal video Che non è fallo Cos'è? Cos'è? E vabbè Ho capito È l'aiuto per i disabili Ok Va sulla camera Si può fare? Si può fare? Ti dico? Ti salvo anche la bianca col dito se vuoi eh Ti prego dimmi che è passata È rimasta nel limbo Nel limbo della muerte È un po' inclinato questo tubo Eh Regia non stiamo facendo niente Oh il tocco magico Guarda mamma senza mani È fallo Hai fatto fallo È fallo È fallo Io spero che la gialla Qualche sponda particolare Eh dicevo che questa ruota A mo' di caro armato Darà delle sponde Era buca Era buca Peccato Era buca Sai qualcuno ci ha messo un tubo Un tubo Da 50 Come? Rimuovetelo Rimuoviamo? Oh Prima buca facile Tu brutto umano Verrai eliminato No E la blu E la tre No la tre lascio lì Perché è già in buca Non vorrei mai Facciamo un piccolo backspi Ah No ti prego Ma sei un pezzo di merda Fai buca Dai su Fai buca Vai Vai Giovane Abbiamo un ponte per terabitia qua Ah non mi dai che la blu no? Eh sì infatti Oh Miche se l'ha fatta Delizioso Curisco la spalletta Facciamo che io mi sposto Perché ho No no tu devi prenderla al volo Se va fuori Se rovina il pagamento Ce l'ho Ti salvo 40 mila euro di muro Oh e quindi scusa Incolata Ho capito E quindi Possiamo vedere sto ruottino di merda Sostituiamolo C'è la blu La blu La blu C'è un po' la misa Non l'abbè Non l'abbè visto prima sta roba Un po' Fonte a livello Sotto passaggio Davo scopo Bello Bello Oh oh Un momento Un momento Musica 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 Ma no Ma eravamo nato il gioco Orvinato Vabbè Giocate Giocate Ci siamo Ci siamo Colpo difficile da maestro Doveva essere Biliardo ostacoli Non biliardo per I bambini speciali Bravo Grandissimo Perfetto Siamo ancora noi Siamo ancora noi Devo fare una linea qua Ok ci sono Ci sono Master Senpai Arrivo Prendi il distanziometro Ok Cosa sta succedendo qua Cioè Ho capito Guarda No no Finisce giù la 1 Ma com'è possibile Ci godo Povero illuso che è vicino alla 15 Poi capiterà Un meteorite sulla buca Guarda No Che c***o Bordaccia Non ho sentito la prima parte Cos'è Pio 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 merdaccio Sì Pio è un merdaccio Era Pio Basta Guarda che Pio amedeo Scusa Dissing È più santo di altre cose Pio Oggi in negozio Spawn Ha voluto comprare una cosa particolare Proprio per la sua ragazza Una sedia ad hoc Solo per lei Ma che vuol dire Ah beh Allora Pella sua ragazza Pregiudizi a parte Ma dici che l'età È solo un concetto mentale L'età L'età è solo un litte 6,45 Potrebbe tenereci pure dado 6 anni Quando 5 mesi 6 anni Quando porti la tua ragazza All'asilo Yes 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 Ti passi il bastone Della vergogna Questo Tendi No Quello Ah l'altro bastone Della vergogna Scusa Esatto 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 Ah ok Si può fare Aiello meccanico L'attrezzo dei clown Quindi va bene Sì Abbiamo quello Quindi aspetta Se tu colpisci la sedia In teoria La sedia poi colpisce la tra Dado Vedo che sei studiato Grazie Vedo che tu non proprio Però va bene Ti do anche una mano Ok ci siamo Chuck 2 Dado Se colpisci la sedia La sedia colpisce le palle Con cos'è Cos'ha creato signori Cos'ha creato Con cosa cazzo Bello pulito Guarda la 15 E' ora di ostacolare Dado E' ora di ostacolare Mettici il conetto Sopra Fai qualcosa Che sta facendo Eh no eh Ci siamo Tira molto forte Oddio Cosa No cazzo Non era un'idea geniale No No Ora Illuminami come dovrei fare Esattamente L'auto deve andare O nel tubo Della canna fumaria O in quella buca lì No più che altro Come cazzo faccio Ad avvicinare Eh rimbalza Colpisce la canna fumaria La canna fumaria cade E poi creiamo Conte La canna fumaria cade Adesso Cioè Credo che La peggiore posizione Di quello Dai vai Scalzo un momento La quindici La quindici La quindici La quindici Per me sono sacchettini di cacca Grazie Qui la quindici Non scat Oh mai scat Ah Vi voglio bene Fui dai coglioni Questa sedia Dado Vieni qua Dimmi Muoviti Dado Devi imbucare Dado ma non è che diamo fastidio Dado ma non è che diamo fastidio Stai detto Dicidetevi vi prego Cos'era 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 Cioè Regia Ma chi tocca Te scad Può esserci Da uomo Uno due uomo Uno due Scusa Giusto per non dar fastidio Tranquillo Lo fai pure Pronto Sì C'è nessuno La ferma Quella ruotina lì Mi sta un po' Posurcato Sul crack Sul crack Dimenticato E vabbè Non funziona Cioè Scusate Adesso Quando fa comodo Lui la sposta Di qua di là Non ha visto nessuno Cosa vuol fare? Dira lungo Ma tu vuoi per forza Immucarla qua allora Piano eh Non ti preoccupare No Grazie Non entrava Grazie Andrea Guarda Provaci Dichiarala Dichiamala però Signori Buca in uno Buca in uno Buca in uno? Cos'è golf? Vorrei dire Dichiarare Sto un po' improvvisando All in one Beh Fallo Non male A me gli occhiali Sei matto Ah divacchi di sto video Lo chiudo Ma con classe Ah vabbè Con classe Scusi signore Vuole una mano? Piero Facile Non ho pensato Neanche per un secondo Che avresti sbagliato il tiro Una gran vittura Una gran vittura Tiro giusto Ragazzi il biliardo ostacoli è stato più complesso di quanto immaginassimo Sì è diventato un biliardo ma loro utilizzano gli ostacoli per imbucare Non era così l'idea del video E niente io ringrazio Skade, Dado per essere passati a trovarci Belli Detto questo per oggi è tutto Spero che il video vi sia piaciuto E niente Noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao